Arrestato questa mattina a Cosenza un presunto terrorista dell'ISIS, il blitz della polizia è scattato all'alba in manette e finito a Mil Medi, di 25 anni, residente a Luzzi, commerciante ambulante con regolare permesso di soggiorno. La digosterà sulle sue tracce già da luglio, quando l'uomo fu espulso dalla Turchia per motivi di sicurezza. Da allora le forze dell'ordine hanno iniziato un intenso monitoraggio nei suoi confronti fino alla cattura di questa mattina. L'operazione è stata coordinata dal Servizio Centrale Antiterrorismo. Secondo quanto emerge dalle indagini compiute dalla polizia e dalla DDA di Catanzaro, il giovane Foright Fighters marocchino era pronto a raggiungere gli scenari di guerra. L'uomo è indagato per i reati contemplati dalla nuova legislazione antiterrorismo introdotta dalla legge 43 del 17 aprile 2015, con particolare riferimento alla fenomenologia dei cosiddetti Foright Fighters e il loro autoaddestramento, articolo 270 quinquies del codice penale. Sono andato in Turchia solamente per pregare la giustificazione data da Amil quando sono scattate le manette. Mi avevano già contestato, ha aggiunto, di appartenere all'ISIS, ma io ho sempre negato e anche ora ribadisco che non appartengo all'ISIS. Sono andato in Turchia solamente per pregare. L'arresto di oggi è uno dei primi casi di applicazione della legge del 2015 che contesta l'autoaddestramento e i fini di terrorismo internazionale, il marocchino arrestato e il classico combattente straniero. A dirlo il coordinatore della DDA di Catanzaro, Giovanni Bombardieri. Lo abbiamo monitorato costantemente, ha aggiunto, dopo che in estate era stato espulso dalla Turchia. Al momento dell'arresto, l'uomo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, Giuseppe Perri, che ha accolto la richiesta del coordinatore della DDA Bombardieri e del sostituto procuratore, Paolo Petrolo.